Da sempre le storie di bambini cresciuti da soli nella natura o allevati da animali hanno affascinato il pubblico e quest'oggi sul palco di Via Biconachi Luigi Delia qui con noi, buonasera Luigi, presenta uno spettacolo che si intitola Tarzan, ragazzo selvaggio. Luigi la prima domanda che ti faccio è questo spettacolo è nato durante il periodo del lockdown e ci vuoi raccontare la genesi. La genesi, ora che mi ricordo, non ci avevo pensato ma ora che mi ricordo è caduto a Livorno, con Francesco sì, eravamo a bere, non so c'è una bibita tipica qui che si beve, il ponce, eravamo a bere un ponce e ci chiedevamo qual'era il prossimo spettacolo e io proposi a Francesco Tarzan delle scimmie il romanzo e Francesco disse, non ci avevo mai pensato, proviamoci e poi è arrivato questo benedetto famoso lockdown e durante quel periodo eravamo fermi e abbiamo affrontato il romanzo di Barros, l'abbiamo svuotato di un poco di cose che non ci piacevano che erano troppo, come dire, romanzate, irreali, noi stavamo vivendo un tempo molto più crudo fatto di virus, pipistrelli, pandemia e quindi è nato un racconto crudo, molto realistico a metà strada tra Tarzan delle scimmie e il ragazzo selvaggio di Truffò e questo sul palco, il palco è un palco particolare con un rialzo, come mai questa scelta? è un'idea che è arrivata durante una lettura, eravamo ad Empoli, guarda quanta Toscana c'è in questo spettacolo provavamo ad Empoli in una residenza e durante la lettura pensai che se fossi stato in bilico, precario nella scena forse ci sarebbe stata l'energia giusta per raccontare la storia di Tarzan e quindi abbiamo costruito insieme a Deni Bianco, che è un grande artigiano, artista pugliese una pedana obliqua che mi permette di stare sempre con la schiena in tensione sempre con le caviglie in tensione, quindi sempre in bilico e quindi è un'ora di spettacolo sempre in bilico fino alla fine, anche quando si arriva nella città anche quando Tarzan arriva a Londra tu questo spettacolo interpreti Tarzan? io sono un narratore, quindi sono un narratore particolare perché è come se fosse forse qualcuno che è rimasto in quella foresta e conosce questa storia e la racconta, quasi uno spirito rimasto in quel bosco quindi la racconto, a volte divento Tarzan, a volte Jane, a volte Arthur, Michael, i vari personaggi che ci sono però sono ecco questo spirito del bosco che conosce la storia, la vista dall'alto degli alberi e la restituisce al pubblico che intanto sta arrivando i ragazzi che sono come Tarzan, quando poi tornano nella civiltà spesso hanno una reazione scioccante ecco se invece, se a noi succedesse il contrario, cioè se noi ci trovassimo catapultati in una foresta quindi senza internet, senza cellulare, senza auto, come reagiremmo? penso che la cosa è disastrosa in entrambi i casi perché la storia di Tarzan è un romanzo, è una fiaba e finisce, diciamo, che lui diventa grande, impara a parlare, riesce a sopravvivere a Londra ma nella realtà i ragazzi cresciuti nella natura, quando poi arrivano in città hanno delle disfunzioni, non riescono, tutte le storie non sono mai state storie all'itofine storie di questo tipo un uomo, io, se andassi nella giungla oggi, da solo, penso che sopravviverei tre ore poi sarei punto, morso, sbranato quindi sono mondi davvero lontanissimi quindi gli incontri sono rischiosi Luigi, io ti ringrazio diamo appuntamento alle 19.30 in via Biconachi con scenari di quartiere con Tarzan, ragazzo selvaggio grazie, a dopo grazie mille, a dopo, ciao ciao